Non lo so, non lo so, non lo so. Io non so come agisce lo Spirito Santo, ma... Oggi è la solennità di Pentecoste, una festa importante tanto quanto la Pasqua. Perché? Perché è la discesa dello Spirito Santo sui discepoli, su ognuno di noi. E lo Spirito Santo, non lo so, non so come agisce. A volte agisce come un fuoco che ti prende il cuore e ti infiamma di amore per il Signore. A volte è un uragano che ti scombustola la vita, a volte serve anche questo. A volte è un soffio leggero, una brezza delicata che ti fa sperimentare la bellezza dello stare con il Signore. Lo Spirito Santo ci permette tutto questo, ci permette di sentire l'amore di Dio, ci permette di prendere in mano la nostra vita e a volte anche un po' di ribaltarla. Ci permette di sentire nel quotidiano la vicinanza e la presenza del Signore. Tutto questo fa lo Spirito Santo, tutto questo avviene dal giorno di Pentecoste in ognuno di noi, ogni volta che lo desideriamo. Ecco, io non so come agisce lo Spirito Santo, ma una cosa so, lo Spirito agisce e funziona ed è bellissimo. Buona settimana! Buona settimana! Buona settimana! Buona settimana! Buona settimana!